Vitelli, si si aspettiamo perché è il primo voto del pomeriggio, Latronico, provi sgambato, Gelmini, Latronico ci siamo sì, Gelmini ci siamo, non vedo altre mani alzate, mi sbaglio? Ferraresi, veloce veloce, Bianchi, Stella non riesce a votare, ecco, intanto che sta allestendo, ok, Ferraresi sta votando quasi, è chiusa la votazione, la Camera respinge, passiamo all'emendamento 1.11, se nessuno, Saltamartini, nessuno chiede di intervenire, lo chiede, prego, onorevole, Federica. Grazie Presidente, ho sentito le motivazioni dei colleghi, dove specificano che bisogna ridurre al massimo i tempi del divorzio perché così si riduce la conflittualità e quindi ci guadagnerebbero i bambini. Ebbene, la cosa assurda è che in questa norma il divorzio consensuale deve essere dato in sei mesi, dove c'è conflittualità fanno un anno, cioè dura di più, cioè dicono dove c'è conflittualità i tempi sono maggiori, dove non c'è i tempi sono minori. Quindi vorrei capire la logica nel quale è palese che quindi si tratta di un provvedimento prettamente ideologico, perché altrimenti dovrebbe essere esattamente il contrario. Se c'è un divorzio conflittuale garantiamo un giudizio nel più breve tempo possibile, che si chiarisca la situazione nel più breve tempo possibile, dove non c'è, non c'è questa emergenza. Invece si fa l'esatto opposto e dunque non nascondiamoci dentro un dito dove diciamo serve per i figli perché non serve conflittualità. Il problema vero sta alla base che quando dalla sentenza di separazione alla sentenza del divorzio lo Stato, il pubblico, gli assistenti sociali hanno abbandonato la famiglia, per quello non si va a risolvere magari una situazione conflittuale. E' stato abbandonato e quel tempo è stato tradotto solamente in un'attesa della sentenza di rivolzio e non in un tentativo di soluzione anche delle situazioni difficili. Perché così ci laviamo la coscienza, diciamo fate quello che volete in qualità di Stato, non c'è nessun problema, non vi garantiamo un aiuto. Dopo in caso ovviamente di risolvibilità ci sarà il divorzio, ma manca quel passaggio. E qui ci laviamo la coscienza, diciamo fate tutto velocemente, ce ne freghiamo di voi, ce ne freghiamo di dare un sussidio, un aiuto alla famiglia. E oggi vi state lavando la coscienza, io personalmente la coscienza non me la voglio lavare e bisogna investire nella famiglia, non fare questi provvedimenti che non hanno un euro per affrontare anche le situazioni difficili da carattere economico, che delle volte sono motivo anche di crisi familiare e invece li siamo divorziate velocemente e siamo tutti a posto. Non ci sto a questa logica della società. Grazie. Grazie. È scritta a parlare la deputata Santelli. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Credo che sia una grossa ipocrisia parlare di minori, figli minori in relazione alla durata o meno della separazione in relazione al divorzio. Ipocrisia perché significa che noi riteniamo che due persone maggiorenni, adulte, che hanno la volontà e la decisione di coniugarsi, di avere dei figli, di avere una famiglia, poi non abbiano a loro volta la maturità per decidere di porre fine alla loro unione, non all'unione con i figli, alla loro unione, all'unione fra un uomo e una donna, che non c'entra niente con il vincolo della genitorialità. È un'altra cosa. Questo stanno dicendo i colleghi. I colleghi stanno dicendo, voi, uomo e donna, lo Stato vi deve costringere a rimanere separati.